Buongiorno belle anime, anche oggi vi leggo una mia poesia, oggi ho optato per una candela, bello vedere la sua fiamma danzarla, il minimo soffio di vento non può spegnere. Bello vedere volteggiare la fiamma, ma torniamo a noi. Dicevo che leggo una mia poesia composta ieri. Siete pronti per le anime? Si intitola Il tono di Mangiolo. Rimango sospeso fra anima e cuore, lì dove ho incontrato te. Mi hai sorriso i tuoi tanti capelli. Erano mossi dal vento caldo, con un gesto della tua mano. Mi hai semplicemente incantato, i tuoi occhi scuri e intensi mi hanno rapito. Le tue labbra morbide mi hanno colato. Sento un profumo di passione, mentre mi avvicino a te. Mi nevria e mi ubriaca. Una farfalla mi dona le ali, così posso volarti attorno. Un angelo mi dona l'anima pura per entrare nei tuoi sogni. e tornarti accanto, apprecciandoti delicatamente. Belle anime, la poesia è finita. Ma io resterei qui per ore a fissare la candela, il fuoco che gli brucia su, la danza, il fuoco. E' così bella e rilassante. A proposito, questa bugia, non che candelagro. Cioè era di mia nonna, è originale dell'epoca e dei primi del novecento. Lo tengo come ricordo, lo lascio così con tutti i suoi segni. con tutti i segni del tempo, tutti i segni che ci ha almeno 85 anni. Mi ricordo quando ero piccolo, che con mio fratello e mia sorella negli anni settanta, l'estate si andava da lei, ci preparava sempre la torta e il suo sapore non me lo dimenticherò, mai una torta semplice, fatta con cose celluline che avevano i contadini, non avevano cose affinate. E' così, questa bugia ha il senso di candelagro. Quando lo guardo, quando lo guardo, mi fa ricordare tutte queste cose passate. Quante volte di sera, mia nonna ci lasciava proprio questa sul comodino, poi spegneva la luce della candela con un soffio e noi pian piano ci si addormentava proprio così. non si vuole spegnere, adesso si. Ciao, belle anni. Ciao. 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 Ciao.